sotto la maglietta, il silenzio agli avversari, in Italia non l'ha mai fatto. Come esultava a quel tempo? Lo vediamo con il commento originale e con qualche avversario come dicevi tu particolare. Ecco dopo in questo filmato c'è anche il confronto con Cooper, occhio, anzi orecchio anche alla telecronaca perché a un certo punto c'è questo confronto Battistuta-Cooper al limite dell'area di rigore e vediamo come finisce, vediamo un po' questi gol. E con la torre, Gabriel Battistuta la televisò molto bene, è stabilizzato, Tapio per dentro, Boca busca il secondo gol, Boca quiere liquidare il partito, Gabriel, gol, 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 de Boca, Gabriel Battistuta. Per Batti, attenzione, Batti che quiere, Batti di azurda, Batti, gol, 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 de Boca campeon, il goleador Battistuta. Battistuta, 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 Battistuta per il quarto, Battistuta, gol, 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 gol. Battistuta, 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 gol, 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 gol che nel secondo tempo, 1 a 0 Allì abbia toccato la torre, se viene otra vez Pico, Pico, Batistuta solo, Batistuta ora o nonca, Batistuta, Batistuta Gol 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 De Boca Il goleador ora si è unico del campeonato, Gabriel Omar Batistuta Batistuta